Stiamo andando a prendere i soldi della raccolta che abbiamo fatto con questa fantastica motoretta. E ora ci dirigiamo verso l'acquisto dei ligiamenti. Abbiamo appena parlato con il capo villaggio e ha detto che va benissimo e felice di questa iniziativa. Adesso andiamo in un posto tranquillo dove poter iniziare la piccola lezione di danza musica. Iniziativa In questo momento ci stiamo organizzando per distribuire ogni jambè in ogni famiglia. Che brava! Che brava!